Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono DJ8 e siamo qui per fare un video chiaramente Oggi andiamo a parlare di Roma-Celsi, Roma-Celsi è terminata per 3-3, giocavano in casa del Chelsea E' terminata 3-3, allora, siamo partiti con 2-0 sotto, è partita 2-0 sotto la Roma Praticamente per un gol di David Luiz, un euro-goal di David Luiz E poi un gol di Hazard, in contropiede Poi Kolarov, nel momento più difficile della Roma, si è inventato un gol proprio lui da solo Poi Zeko ha fatto un euro-goal, e poi ancora Zeko, un altro gol veramente molto bello E poi un cross Hazard di testa l'ha messa dentro, ed è finita 3-3 Allora, molti vedo su internet che dicono che Zeko segna solo contro le piccole Allora, per chi dice queste, non capisce niente di calcio Perché, raga, Zeko sta segnando a motore, segna contro le big, segna contro le piccole, segna contro le medie E segna con le big anche d'Europa, l'ha dimostrato Ha dimostrato facendo un gollazzo di quelli proprio esagerati Ha fatto un gollazzo anche Kolarov, che si sta comportando molto bene con la Roma Kolarov si vede che è un ottimo giocatore, cioè è forse stato il miglior acquisto di tutti della Roma A parametro zero dal Manchester City, sembra veramente molto forte Sto comportando veramente molto bene Poi, niente, la Roma ha giocato come doveva giocare Ha giocato sapendo di essere inferiore al Chelsea Ha vinto, no ha vinto, ha pareggiato Ha guadagnato un punto veramente d'oro Poteva vincere, perché la meritava la vittoria Ha avuto dei tiri di Perotti, di Ningolana, ha avuto molte azioni, devo dire E quindi, ha avuto molte azioni, però alla fine è finita trattere Questo può essere anche il vantaggio nostro, del Milan Che appunto la Roma abbia fatto trattere Perché Conte, se magari viene esonerato Se condizionano a perdere il partito e viene esonerato Magari cambiano Montella e viene Conte E questa sarebbe una grandissima cosa per noi Perché già hanno avuto contatti, stanno avendo contatti con Conte Quindi, speriamo Vabbè, comunque, ora si deve analizzare la partita Allora, il Chelsea ha giocato una partita mediocre E è riuscito, nonostante, avendo quei 3-4, quei forti, quei giocatori lì Che hanno fatto la differenza Quella Zard e quel Morata Che hanno fatto la differenza Nella partita Mentre la Roma ha giocato davvero a squadra Veramente ha giocato benissimo È riuscito a guadagnare appunto un punto d'oro Poteva vincere, doveva vincere Quindi ha guadagnato un punto veramente duro Ora, la Roma ha pareggiato anche con l'Atletico Madrid Quindi la Roma si sta comportando veramente bene anche in Champions Contro le Big non la sta perdendo Non le sta perdendo le partite Ma le sta comunque giocando Se la sta giocando Tranne con l'Atletico Che praticamente l'ha praticamente sofferto un casino Grazie ad Alisson l'ha vinta Quindi, niente Allora, la Roma quindi vince Complimenti alla Roma Ha giocato veramente molto bene Con quel Zeko Comunque, ripeto, per chi dice che Zeko è un cesso Non capisce niente di calcio Non dovrebbe più seguire il calcio, secondo me Perché Zeko è veramente fortissimo L'ha dimostrato contro di noi Contro il Napoli l'anno scorso Contro la Juve L'ha dimostrato contro tutte Ha segnatola a tutte praticamente E facendo dei gol davvero attaccante e puro Quindi, questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Adesso ci mette un like Fatevi sull'iscrivetevi E ci vediamo alla prossima Ciao